e quindi benvenuti alla notte horror di torino 37 immagino che sappiate più o meno tutti come funziona vedrete tre film il primo si chiama blood quantum ed è una storia praticamente di zombie bianchi cattivi contro indiani moderni indiani pelle rossa che sono esenti dalla epidemia zombesca e sono i buoni della situazione e il secondo è un classico dell'horror un film bellissimo degli anni 50 che si chiama il mostro della laguna nera in cui c'è un mostro che si innamora di una scienziata e il terzo è the lodge ed è invece anche quello un film recentissimo e molto atteso ed è la storia di una famiglia insomma padre due ragazzi e la nuova fidanzata del padre che si trovano isolati in una casa immersa nella neve una casa del nulla immersa nella neve nella quale si sentono delle cose si spostano degli oggetti in cui probabilmente ci sono dei fantasmi sono tre horror molto diversi spero che vi piacciono tutti e tre e come sempre lo sapete c'è caffè libero fuori nell'atrio e tra un film e l'altro le brioche io porto a casa freddi divertitevi e visto che avete passione sapete che c'è anche una mega retrospettiva horror 1920-1970 buon divertimento buonanotte